La lezione di oggi ha due motivi fondamentali di interesse. Il più facile da raccontare è che lui è stato con grande concordia di opinioni da parte degli architetti di San Luca, della classe di San Luca, nominato per il prego Presidente della Repubblica, che gli è ricevuto dalle mani del nostro Presidente della Repubblica. Un oggetto pesante. Noi siamo molto contenti di questo evento perché abbiamo ricevuto anche in ritardo il prego di un grande scultore, che peraltro non sta bene come ho preso io per lui che è trovato il senso. Il secondo motivo è che lui casca bene, per coincidenza, su un ciclo di conferenze che abbiamo inventato, io mi scrivo, definendo di dedicare parecchie conferenze con date, quelle che si possono fare, cioè non c'è un calendario preciso, ma comunque seguiranno a breve altre lezioni di questo genere, che comprendono tanti architetti italiani e internazionali e anche artisti, perché non è limitato l'architettura. ed è il tempo della contemporaneità, in contatto, in presenza, in vicinanza dell'antica, nella scelta antica, nella scelta storica, accanto all'archeologia, nelle chiese, quindi tutto quello in cui, secondo me, gli architetti e gli artisti italiani sono chiamati dai fanti ad intervenire. Ripeto, nella nostra idea c'è anche un filo di polemica, nei confronti soprattutto di come ci si sta comportando adesso in Italia. In Italia c'è, si è creata, un po' per ritualità delle solitendenze, un po' per una serie di scelte nell'ambito del restato, che si è incluso in se stesso, nella sua parte utilissima, che è quella della specificità tecnica dell'estavatore che si occupa dell'antico, per carità, che è utilissimo, perché molta parte della conservazione del nostro patrimonio, della Santa Patria, della cura del patrimonio, è anche legata alle capacità dell'estavatore che sono tecniche. in qualche modo la città vive, il territorio deve vivere, noi siamo un territorio antichissimo, tutto, soggetto costantemente a degradi. Tra l'altro terremonia, tra un picco, io ho avuto l'esperienza, per motivi di lavoro, anche contestatissimo, quindi non ho anche vissuto negativamente questa stessa situazione, dell'India, dei Norcia, dei monomini. Norcia è una città bella, bellissima che è. Melade, il suo terremonio, e in particolare tutto esecchiese, spriciolate. C'era, non c'è più, non ci sono più, ce ne sono certi minimi. Ora pensare, non c'è stata rifatta, faccio un esempio, non c'è stata rifatta, è rifatta mille volte, perché Norcia è elenicamente in un corso pericolosissimo. Entrato Norcia, dalla Porta Uruguayana, si cammina in un corso intanto, intanto perché è stato fatto, sul mandato di, non di un geometra, di un due cilindro, perché molte cose trollate sono perfide cose, è stato fatto, è stato fatto un architetto dei primi dell'Ottocento, che si chiama Poletti, l'odore di dietro, dell'apsite e soprattutto del campanile di San Paolo, della sistemazione absitana di San Paolo. Un architetto intelligente, razionale, capace, che l'Ottocento è arrivato, un'opera dell'Ottocento, un tessuto che, per fortuna, ci è rimasto intanto perché l'ha costruito bene. Talvolta è puro restauro, filologico, amoroso, eccetera, e scemo perché ricostruisce, ci ridà un breve e il destinato di fare, ricordarci il giorno dopo. Quindi c'è un dato di novità che deve essere recitato con enorme discrezione, con facilità, saggezza, perché è chiaro che io sono molto d'accordo che gli architetti contemporanei si sono creati da soli, è una fama di distruttori, distruttatori del paesaggio, con bizzarri, vettori di stravaganti forme che stanno a capo, tanto per esprimere se stessi, non so come dire, cioè questo ecocentrismo dell'architettura contemporanea che certo non collabora a creare una credibilità degli architetti. Noi abbiamo detto, ma chiamiamo gli architetti che hanno fatto cose credibili, che hanno lavorato su le cose dell'antico, e l'hanno fatto bene, che non sono tutti morti, l'hanno fatto i nostri grandi Scarpalmini e compagni negli anni 50, hanno ricostruito l'Italia, in molti casi benissimo, intervenendo, ricostruendo dove serviva di costruire le ponte santa del Trino, come era dove era, e in altri casi intervenendo in modo contemporaneo un uomo ha fatto Scarp e tante semazioni, diciamo. Nel centro dei patrimoni completi, ricchi, articolati, antichi e nuovi con il dialogo, e ci sono queste persone, ce ne sono tante, ci sono tante persone in Italia e nel mondo, tra cui il Presidente, che hanno fatto questo, nel convegno che abbiamo fatto ieri, che è stato da voi, un architetto di origine napoletana, giovane, che lavora in Spagna con un architetto con un catalanico bravo, sono intervenuti, sono edifico storico in Francia, facendo un lavoro eccellente da questo punto di vista, edifico, rinnovato, modificato, con dei pezzi di assoluta contemporaneità che però rispetta profondamente quello che c'era. Raffaele Moneo ha ricostruito, ha intervinto una cattachera, facendo una trasformazione urbana, che però ha prestito da cattachera, un teatro romano che prima non si sapeva manco come fosse, un'alborenda leggibile, ha ridato senza una chiesa crollata, però ci ha costruito un museo moderno che ti permette di salirci, un pezzo di città antica, abbandonata, che è diventato un pezzo di città centrale e utile. Queste sono le cose da vedere, da discutere, non dico che sono tutte perfette, però è una cosa che secondo me di cui da nunca si deve occupare, perché se no abbiamo abbandonato tutto allo specialismo, a me non è possibile, non è una cosa... con questo, con il massimo rispetto per lo specialismo, con il massimo rispetto per i restauratori veri, con il massimo rispetto per i tecnici, per la filologia necessaria, per tutto questo, che è chiaro, non è il contrasto, non deve essere il contrasto con quel minimo di necessaria che è un'innovazione che comunque, secondo me la vita propone, non può essere che siamo solamente, veniamo solamente nella conservazione pura del vecchio, che è una stravazienza pesima. Tutto qua, queste sono le permesse della serie, non nel discorso di oggi. Grazie. Io vi ho parlato moltissimo. Ricordavo alcuni giorni fa, ricordavo alcuni giorni fa, posito la presentazione di Massimo per Massi, come fosse importante confrontare le generazioni. ricordavo come fosse uscito alla metà degli anni settanta, lo dico per i giovani che lavorano a studio con lui, era uscito un numero mitico della Fischiur, il numero 175, il numero 181, che era, diciamo, tutto strutturato dalla mitica scuola critica pafugliana di Venezia, dove c'erano da Francesco D'Arcò, da Manieri Elia, a Giorgio Giuducci, a Giorgio Domenico Romanelli, a Massimo Cacciari, ecco, la cosa incredibile di quel numero che era la prima volta che la Fischiur Giudice, a distanza di 25 anni, ridedicasse un numero monografico all'Italia, è che le generazioni allora contemplate dai padri della patria, la Salaga, la Tella, la Barone dei Wolfi, erano presentati da Manfredo Tafuri in solitario come generazione delle muse inquietanti e con un sottotitolo delicato ai cavalieri rannanti, mentre le generazioni dei maestri di sangue blu, della Russia a Politello a Semerani a Costantino Dardi e tutto l'enclavo a Veneziano, erano definite la generazione dell'incertezza, la generazione delle inquietudine e la generazione dell'incertezza. Negli anni Ottanta, quasi in contrapposizione, anzi, in voluta opposizione dialettica con quello che è il tema della dimensione del progetto come concentrato teorico, tutta risolta sul piano disegnativo, anche se anche le scarse occasioni di realizzazione delle cose, che era soprattutto concentrata in ambito romano, pensiamo al ruolo propositivo dal punto di vista teorico di Franco Polini attraverso il disegno, ecco, veniva definita in contrapposizione a questa orgia, diciamo, di scrittura grafica la generazione della concretezza, la generazione della concretezza vuol dire quelli che avevano rapporti diretti con il cantiere e meno con la cadena, pensiamo a Guido Canari, appunto a Caramassi, a Tamino Guerra in ambito... Ecco, allora, se uno dovesse chiedersi Renato Rizzi, che è molto più giovane di questa generazione di cui abbiamo parlato, in quale generazione lo dovremmo collocare? Io ho preso il pretesto dal testo di Susana Priscilla, che in un libro bellissimo dedicato a Parma in attesa, lo spazio del pudore, un libro uscito nel 12, mi pare come compendio di un continuo lavoro laboratoriale strutturato con il festival dell'architettura di Parma, quindi con Quintelli e con diversi lavoratori di recitazione all'interno anche dello UAM, ha, diciamo, avuto come naturale conclusione una mostra straordinaria di cui vengono restituite anche le immagini restitive all'interno dell'autore di Parma. Ecco, e io ho pensato che la Susana Priscilla, Susana Priscilla, Susana Priscilla ha un tentativo di strutturazione, diciamo, genealogica per ritrovare le radici di questa, invece no, la generazione proprio dà un'idea di come si genera il progetto, infatti all'interno del testo poi ne fa un ripercorso, ripercorre forse negli ultimi 15 anni di attività progettuale in maniera molto sintetica ma straordinaria, coglie il senso vero del progetto di Renato Rizzi e del suo team di studio. Quindi l'unica cosa che mi viene da dire è che Renato Rizzi ha sempre lavorato in solitudine, no? È quasi a dispetto del mondo, un viaggio solitario è sicuramente inattuale, però quello che è stato costante è che tutti i progetti indicano l'antitesi tra, in fondo, modernità e conservazione, ma come, diciamo, una posizione tra la modernità tecnico-materialistica e la modernità teologico-metafisica. E per comprendere il senso di queste cose segnalate dalla stessa Susanna, bisogna forse partire dal suo rapporto con la scrittura perché credo che sia tra gli autori, tra gli architetti più prolifici, diciamo, anche dell'arco generazionale del secondo novecento e poi. In questo c'è neanche un sottile omaggio, secondo me, anzi dichiaratamente un omaggio, a quello che è stato il ruolo della scrittura sempre nella scuola veneziana, a partire dalla metà degli anni sessanta, quando nella mitica con l'anno diretta da Paolo Ceccarelli, Polis e Lamastiglio escono a Razzica, dal 65 agli anni settanta, tutta una serie di libri che hanno segnato la nostra formazione, l'architettura della città di Aldo Rossi, la costruzione della logica dell'architettura di Giorgio Grazzi, in ambito lombardo, il territorio dell'architettura di Vittorio Bregatti, origine e sviluppo della città di Monerra, Carlo Monino, vale a dire un concentrato teorico che finalmente dissodava il territorio, diciamo, della scrittura, da quella che era semplice e immediata promessa di architettura implicita nel progetto di architettura stessa, quindi una dimensione di elaborazione teorica molto importante. E allora voglio ripercorrere, in maniera velocissima, il senso delle fasi della scrittura, poi vi dirò che trova un proprio punto di svolta, il punctum, come direbbe Sudanna, in un momento particolare. Lui inizia nel 96 con il mistico nulla, 99 le voci dell'ozio, 99 miserie riscatto con Salvotti e De Bindis, e poi nel 2000, mi pare, il libro teoria in opera, il libro massimo scolario, ecco. Poi c'è una sorta di assolo, che è un libricino, una specie di incunabolo del marmorto, prezioso perché rammemola in fondo la collana e il balcone in cui uscivano le prime cose sulle Corbusier di Giancarlo De Carlo o i libri su Asplund di Bruno Zemi, nel formato anche richiamo, nonostante sia un'edizione polonese, Pitagora e Pitrice, il daimo di architura, teoria e teresia, con interventi di Donai e di Paolo Portoghesi. È la prima scompresa perché poi lui, se non è Emanuele Severino o qualcuno della Scuola Vita e Salute, in genere non li coinvolge. Ecco, c'è un altro blocco, che è quello della murale dedicata alla poetica di Asma, la murale ebraica del 2009, poi nel 2010 l'inconciliabile, dedicato fonograficamente su uno dei primi lavori, anche questo annoso, perché uno dei problemi delle sue cose realizzate è sempre stato il trascinamento e l'annosità dal piano delle diarie, mi pare, che durante... che non è ancora finito, che non è ancora finito, ma compromesso nei suoi punti iniziari, sprendi l'esperienza, anche lì tra i finali per oltre dieci anni, che è la casa di De Piero a Rovereto, con un libro molto bello, anche lì, mi pare, delle parole mimesis, le parole dell'arte, anche qui sempre con un unico scambio tra i curatori della collana, adesso mi pare che hai conquistato tutto tu, sei l'unico e totalizzante curatori della cellana, di mimesis, però invece ci sono stati molti smandamenti, perché prima la collana del direttore Massimo Donati e Raffaella Toffo, poi da Luca Tattino e Filippo Pozzi, con molti salti rocamboleschi, arriviamo alle parole dell'arte, sì, mi pare, la collana curata dai due. Poi c'è la tua monografia, su John e Bicciacca, perciò che su John e Bicciacca, alla Cooper Union hanno insegnato John e Bicciacca, però, insomma, c'è un libro invece che attraversa dieci anni, che è il Punctum, che è un libro, una sorta di libro d'esami, che credo abbia tirato in tre coppie, no? in coppie coppie, che ripercorre dal 2000 al 2012, fino alla Parma in attesa, quello che è stata un'esperienza a cavallo tra i contributi dati per la rivista dello IWAB, giornale, 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 giornale di alberga, giornale di alberga, ecco, dal numero 5, al numero 13, al numero 19, quindi mette assieme queste presenze disseminate, disseminare, mettete tutto giusto, perché lui ha rapporti per otto anni con Eisenman, e per il Parma della Villette vi confrontate con Derrida, ecco, quindi questa disseminazione dei tre numeri particolari, il 5, il 13, il 19, il 5, apre curiosamente non con un filosofo, ma con un personaggio straordinario che io ho imparato a conoscere attraverso la sua storia della lattuga, che è Maglio Brusatin, la storia della lattuga, il film al suo alfabeto, no, su queste riviste un po' strane, anche lì era Brusatin che nonostante fosse stato simulato accademicamente con la complicità di tutti, i bibi d'oro attorno a Manfredo Tafuri, cioè, poi in realtà si riserva, diciamo, lo schermo di scrivere anche lui su riviste introvabili, poco adatte a un territorio dell'avventura, e poi scrive questa storia della lattuga straordinaria, ma, prima di Severino, prima di Cacciari, prima di Massimo Donati, gli fa scrivere una cosa che era dedicata all'oblio, l'arte dell'oblio, e l'arte dell'oblio si svolge partendo da due cose straordinarie, la memoria di Dürer, più volte, che almeno per due volte arriva a Venezia, e c'è una testimonianza di un'ala spezzata, dell'uccello, piandaia, marina, o della coronacchia celeste, che come il martin pescatore, delle isole della Dalmas, ma anche nelle isole greci, e nei mari delle terre dei tramonti, di cui il termine latino è carraccas garula, corraccias garula, che ha la prerogativa, chiaramente, più magici straordinari, ma una sacca sotto il collo, in cui quella che viene dalle montagne conserva le ghiante, quella che va nelle isole greci, i molluschi e i gamberetti. Ecco, allora, lui dice, l'ala spezzata di questa coronacchia celeste, che non popolare, in fondo è confrontabile, con quei quattro rocchi dei sette, che vi è capitato di venire, qua, prima di fare la lezione, da Renato Rizzi, nel canto di Bianco, di Briani, ecco, i quattro rocchi della colonna del tempio del Capo Stugno, di Poseidon, e dice, provate voi a capire, se è possibile, restituire il senso della unitarietà, certo che è possibile, perché questa non è una colonna spezzata, perché c'è il capitello, sono solo quattro rocchi, una parte, rispetto al tutto. Ecco, credo che, questa, Zibaldone, che raccoglie, i tre interventi disseminati, con la storia che vi dicevo, di Mani Blusatini, ma con degli interventi incredibili, su verità e tecnica di Severino, sull'attentura e filosofia di Massimo Cacciari, e sulla relazione, i modi dell'archè di Massimo Gromani, di un po' il senso del modo di affrontare il progetto per Renato Rizzi, perché il problema è quello di come si arriva a portare fuori il senso del progetto già resistito, obbligando tutti a cambiare verso, a rovesciare il senso. E allora mi piace citare sempre la Susanna, che a un certo momento dice, non dentro la città, ma la sua immagine riflessa per scoprire di essere a nostra volta guardati dalla città stessa. Vorrebbe dire anche però rigenerare il punto di vista, cercando quel luogo, quel preciso punto, in cui lo sguardo delle cose si fissa su di noi e ci penetra. Infatti è solo grazie a quella reciprocità della visione che si attiva la circolarità tra quotidiano e metafisico. Io adesso vorrei vedere i progetti che ci presenti, per poi discutere con tutti loro il senso di questo progetto. Grazie e buon lavoro. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 vestito come sono vestito, che ho una camicia pulita, un vestito di lana, dovrei avere una tuta da moratore, dovrei avere le scarpe da cantiere e dovrei avere le mani sporche di gesso, perché lavoro con la materia, sì, lavoro con la materia, ma anche il pensiero è materia, e che materia, che ti fa in mezzo il paziente, ed è per questo che il titolo di questo, non so come dire, dialogo che farò con voi, porta questi tre enigmi, i tre enigmi di architettura, ma perché vi chiamo tre enigmi dell'architettura, ma perché in realtà l'enigma è il fratello inferiore del mistero, e onestamente avrei dovuto dire i tre misteri o il mistero di architettura, e voglio subito spiegare che cosa intendo con questo, o voglio spiegare, l'unica cosa che posso affermare è quello che è il mio credo nei confronti di una disciplina che non credo ancora di conoscere, ma che vorrei conoscere, perché il mio grande, il problema più grande che ho sempre avuto da quando ho iniziato l'università fino adesso, e sono passati ormai 40 anni, è quello di cercare di comprendere non quello che penso io dell'architettura, ma quello che pensa l'architettura di se stessa e che noi dovremmo in qualche modo recepire come tale. Perché dico questo? Ma perché ho sempre avuto un grande problema? E questo problema è, ma che cosa vuol dire questa parola oggi, nel nostro tempo? Io quando ho iniziato a studiare, ho iniziato a studiare nel 1971 al Politecnico di Milano, e voglio dire c'era ancora la cedere nelle alle, poi dopo tre anni ho capito che lì non veniva fuori nulla, mi sono trasferito a Venezia, e pur essendoci i Tafuri, i Rossi, i Cacciari, ancora non capivo la loro importanza e ho fatto tutto un altro percorso, per cui ho speso sei anni della mia vita senza capire qualcosa che fosse, che mi riempisse in qualche modo la mia curiosità rispetto all'architettura. Però ho iniziato a studiare, realmente dopo, ma non voglio fare una biografia di me stesso, e adesso trovo un conto, trovo così. E voglio organizzare questo discorso in due momenti, uno che è un po' teorico, una ventina di minuti, e dopo vi faccio vedere alcune opere in modo tale da poter tradurre quello che dico oralmente con delle immagini che sono forse la cosa più importante. Però non è che sono più importanti, perché anche il pensiero è molto importante, anzi è importantissimo. E allora, perché questi tre enigmi? Ma i tre enigmi innanzitutto dipendono da un fatto. La prima domanda che mi sono sempre posto è, ma che cosa vuol dire architettura? E non so ancora dire che cosa voglia dire, ma so almeno, o posso sostenere almeno una tesi. E la tesi è la seguente. Intanto l'architettura è questo termine che si compone di due radici. Va bene? L'archè e la tecnica. Lasciamo perdere le questioni del linguaggio, della lingua greca, che sono molto, molto importanti, ma è un termine, è una parola che è come fosse fatta da due enormi pilastri, uno a fianco all'altro. Ma questi pilastri però non è che si toccano esattamente. Sono adiecenti. Ma sono due pilastri? Eh ma sono due pilastri. Ma che senso hanno questi due pilastri? Prima di dire due parole su questo, devo fare un'altra considerazione, che è, ma qual è la consapevolezza che noi abbiamo del tempo in cui viviamo? Questa questione non è emersa da sola, questa questione è emersa proprio lavorando poi con i cacciari, ma soprattutto con Severino. Questo filosofo, che è un filosofo molto, non so come dire, non è così molto amato, ma ha delle idee abbastanza, abbastanza chiare. E questa chiarezza ve la posso sintetizzare in un secondo. E cioè, il suo grande pensiero è, non si può fare, non si può pensare di avere alcuna idea del tempo in cui siamo, se noi non abbiamo una minima idea di tutti i tempi che lo hanno preceduto. Cioè, se non c'è una comprensione dell'orizzonte complessivo di tutti i tempi, non si può comprendere qual è il senso del tempo in cui noi viviamo. Ora, senso. Senso è una cosa, significato a un altro, come dire, portato. Tant'è che se noi teniamo presenti questo doppio schermo, no, del doppio pilastro dell'architettura, della parola architettura, il significato appartiene alle tecniche, il senso apparterebbe all'archè. Solo che il senso, anzi, solo che il significato è qualche cosa che non ha direzione, va da qualsiasi parte. Costruisci una sedia, costruisci una sedia, ma non dici niente su questa sedia. Tu fai mille sedie diverse, ma è sempre senza senso. Se io dicessi invece il senso è ciò che dà la direzione al significato. Se io faccio una sedia per un papa, non faccio la sedia per casa mia, cambia il tono. Se faccio la sedia per un carcerato, se faccio la sedia per la pena di morte, è diverso che fare la sedia per un re. Cioè il senso dà la direzione ai significati. Sì, ma oggi ormai si può dire in maniera chiarissima che noi siamo dominati dal sapere tecnico-scientifico. Ora, io non ho niente né contro la scienza né contro la tecnica. Credo che la tecnica e la scienza facciano bene quello che devono fare, però non possono fare molto né la scienza né la tecnica quando i problemi che sono sul tappeto riguardano la forma. Il problema della forma è un grande mistero che passa da ciascuno di noi. Non c'è niente da fare. E tra l'altro, attenzione, non è che la tecnica non produca forme, è che quando la tecnica è tecnica produce delle forme straordinarie, ma quelle forme non sono le forme nelle quali noi viviamo, sono quelle forme che diventano strumenti che noi potremmo usare. Ma oggi la tecnica e la scienza hanno un carattere che se non lo comprendiamo è quasi impossibile comprendere qual è il senso della parola architettura. Ecco perché qui la filosofia è molto importante. E la filosofia, cos'è che ci dice? Faccio riferimento ancora a Sebelino. La prima grande questione, o i tre enigmi, la prima parola, il primo enigma è la parola architettura. Benissimo. Architettura. Noi siamo nel tempo dominato dai saperi tecnico-scientifici. Però questa parola ha questo suffisso, questa prima, che è l'arche. E che cosa vuol dire l'arche? Lasciamo perdere la definizione greca. I principi primi, il bello, il buono, il vero. Sintetizzo tutto questo in un'altra parola che è molto più, secondo me, ancora tragica. L'arche è un'indominabile. Perché nessuno di noi ha fondato i principi primi. Nessuno. Nel bello, nel buono, nel vero non li abbiamo fondati noi. Esistono già e noi dobbiamo solo, come dire, reinterpretarli. A mai di là di questo, l'arche accomuna tutti quei sensi che sono indominabili. Mentre la tecnica e la scienza si sofferma sui significati che sono dominabili. Ma questo rapporto tra ciò che è dominabile e ciò che è indominabile la dice lunga. Perché il nostro tempo, il tempo contemporaneo, tecnico-scientifico, dice a noi, architetti, che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Cioè noi saremo i degli urdi di tutte le cose. B, che tutte le cose sono isolate. Ecco perché noi avremo così grande potere sulle cose. Perché le cose sono isolate, non sono in relazione. Terzo, è un tempo in cui noi siamo totalmente a critici. Perché non ci sono riflessioni sull'ambito, su quel 50% di indominabile, che è quell'ambito di senso che sta prima della tecnica di architettura. Quell'indominabile, com'è che funziona se noi lo dimentichiamo? L'indominabile è un indominabile. E allora la prima questione è, intanto, la parola architettura è qualche cosa che mette insieme due direzioni opposte. Ciò che è dominabile e ciò che è indominabile. Queste due direzioni convergono nel loro centro, che è il progetto. Ma allora qui adesso dobbiamo fare un altro salto e parlare del secondo tema, è il tema, in qualche modo, dell'Io, noi, cioè il soggetto. Cosa siamo noi, in realtà? Anche qui non è che mi permetto di dire cosa siamo noi, ma abbiamo una struttura, diciamo, semantica, che è analoga alla parola architettura. tant'è che ciascuno di noi, anzi, c'è un termine greco che per definire noi usa questo termine che noi ci chiamiamo delle persone. Eh, ma la persona è una parola italiana che deriva dal suo termine greco, il prosopon, cioè la maschera. Cioè noi siamo maschere. Perché siamo maschere? Eh, siamo maschere perché il nostro corpo è la maschera che noi, come direi, ci mettiamo davanti e in qualche modo noi ci vediamo e ci riconosciamo. Ma la parte interna di questa maschera, il lato interno, il lato interiore, qual è? È la nostra interiorità. Eh, ma la nostra interiorità che relazione ha col col lato esteriore della maschera. L'architettura, la tecne, la faccia esteriore della forma. Sì, ma la faccia interiore della forma dov'è? E noi? Qual è la dimensione che ha l'interiorità rispetto alla esteriorità? La nostra esteriorità è così, non sono né più grande né più piccolo della mia statura. Sì, ma la nostra interiorità, o la nostra, scuso un altro termine che mi piace molto ma che è scandaloso, è la nostra anima. Dov'è la nostra anima? È qui? È qui? Nella spada? Nelle ginocchia? Dove? O forse noi camminiamo costantemente nella nostra anima. E non è che forse la nostra anima è tanto grande, tanto quanto è grande l'universo che noi pensiamo? Perché noi pensiamo all'universo infinito, eterno. Pensiamo alla gioia, al dolore, alla verità, a tutto. Sì, ma da dove vengono questi pensieri? Siamo forse noi che decidiamo che ad un certo punto della giornata abbiamo i pensieri? Anche qui, quant'è che è dominabile in noi e quanto è indominabile in noi. Cito questo poeta, questo poeta russo, un poeta ebreo russo, Osipio Mankerstan, il quale dice una cosa molto importante, a parte di questo, è un poeta che è morto in Latia di transito in Siberia quando aveva ancora poco più di 40 anni. Lui dice, quando ciascuno di noi nasce, ed ecco qui il problema che riguarda noi, spezza, e questo sarebbe la terza parola che devo introdurre in quanto enigma, spezza le reni del tempo, le spezza. Perché ciascuno di noi è, com'è che si dice, un predicore, cioè non è, all'inizio tu non sai cosa tu sarai, anche se tu sei già determinato di tuo, ma non sai perché devi crescere. Cioè noi spezziamo le reni del tempo. Cosa vuol dire spezzare le reni del tempo? Che noi, ciascuno di noi, non è dentro una cronologia, ma è una totalità di tutti i tempi. Noi siamo la totalità di tutti i tempi. E siccome però ogni nostra nascita spezza appunto la schiena del tempo, come si fa a rimettere insieme le due labbra di questo abisso? L'unica possibilità che l'uomo ha sono le sue opere. Le opere sono quel ponte che mette in relazione i due bordi, i due argini di questa frattura. Però questo dice qualcosa su di noi che il tempo contemporaneo non ci dice. A parte che basterebbe anche leggere quel piccolo libretto di Agambe su che cos'è il contemporaneo. Il contemporaneo è tutto ciò che noi possiamo, come dire, recepire sia dal passato sia dal futuro. E allora aggiungiamo una cosa. Ciascuno di noi è una persona. Questa persona ha due facce, una esterna e una interna, l'interiorità. L'interiorità è l'ambito più sconosciuto, come è sconosciuto tanto quanto il nostro corpo fisico, ma nel tempo dominato dalla cultura tecnico-scientifica, e faccio riferimento sempre alla questione della forma dell'architettura, noi siamo diventati non più, non siamo più delle persone, non siamo più delle individualità, perché siamo solamente, l'individualità è un concetto neutro, ma siamo delle pure arbitrarietà. Ma l'arbitrarietà è ciò che ci è concesso e voluto dal sapere tecnico-scientifico. E adesso ritorno sulla questione del sapere tecnico-scientifico. E rimetto in gioco di nuovo il segreto. Il nostro tempo è caratterizzato da un pensiero che per noi ormai era una fede, come avevamo fede in Cristo o nella religione, noi adesso abbiamo fede in qualcosa che è la tecnica della scienza. E abbiamo fede che tutte le cose sono tutte separate e che noi le possiamo dominare. Ma se noi mettiamo in relazione quello che diceva Sedrino, che dobbiamo avere la conoscenza di tutto l'orizzonte del tempo, allora succede qualcosa di veramente interessante, perché dice, ma dov'è che nasce il nostro sapere? I nostri, voglio dire, se noi tornassimo indietro di un milione o due milioni o tre milioni di anni fa e uno e ciascuno di noi fosse il primo uomo su questa terra. Mica può andare in un'accademia a prendere un libro e cercare di capire il senso di quel che vive o di quel che sente o di quel che pensa. Cioè da dove viene il nostro sapere? Ma il nostro sapere, prima di tutto, viene da una condizione assoluta che è l'apparire di tutte le cose, cioè dell'apparire del mondo. Ma l'apparire del mondo è sia ciò che uno vede, ma anche ciò che uno sente, che percepisce dentro di sé. Questo dialogo tra le cose visibili fuori di te e le cose invisibili dentro di te continua a lavorare, però attenzione è sempre l'apparire, è quel grande magma dal quale noi abbiamo strabulato tutti i nostri saperi. Cioè l'apparire vuol dire che tutto è in relazione, tutto appare, tutto è in relazione e l'apparire è totalmente indifferente ai nostri giudizi di valore. E allora io traduzco la parola apparire con un vocabolo che è un altro vocabolo molto, un po' ridicolo nel nostro tempo, che è l'estetica. Ma l'estetica è un sostantivo femminile e aggiungo questo sostantivo maschile, l'estetico. L'estetico è ciò che appare, è l'apparire indominabile. Possiamo ricomandare le nuvole di esserci o non esserci, il sole che sorge, le piante che crescono, il mondo che ruota, le stelle che brillano. No, e siamo lì ancora a guardarle e a contemplarle. Vorremmo dominarle ma ancora insomma le contempliamo. Voglio solo dire che esiste all'inizio del nostro sapere tutte le cose appartengono al mondo dell'estetico, cioè della parire, perché tutto è unitariamente in relazione. L'estetico non lo si può scavolcare neanche di un millimetro, perché le tre categorie fondamentali, la logica, l'etica e l'estetica, che sono quei tre principi che apparterebbero a parola, ma che in realtà guardate, anche se noi saltiamo la logica e diventassimo illogici, come prevalentemente siamo illogici nel nostro tempo rispetto alla forma, non succede nulla, anzi succede qualcosa, ma possiamo farlo. Possiamo anche essere amorali, aetici, senza etica, ma l'estetico non possiamo superarlo. Perché l'estetico, ciò che è indominabile, lavora in ogni caso e la sua dimenticanza produce la volgarità e l'insignificanza che noi produciamo. Perché noi crediamo che tutte le cose le possiamo dominare. Allora, rispetto a questo tempo, io adesso, per essere più chiaro, dovrei parlare molto, ma non voglio parlare molto, perché so che te e Dio le persone, ma vorrei usare un mito, che è il mito di Prometeo. E guardate che per me i miti non sono qualcosa che è relegata nel passato, ma il mito è qualcosa che è presente e attivo nel nostro tempo, sempre, dico sempre, sempre. E facciamo questo esempio, prendiamo il mito di Prometeo. Tutti sappiamo che Prometeo è quel Dio che ruba il fuoco e porta il fuoco, cioè la tecne, agli uomini. Però gli uomini, pur ricevendo questo dono di un Dio che si deve sacrificare, poi vediamo perché si sacrifica, soccombono ancora alle melve. Però questa parte che vi ho raccontato è solo la parte, non so come dire, centrale del mito. C'è un'altra parte, la prima e la terza, che normalmente si dimenticano. E per questo basta leggere il libro del Protagora di Platone, dove il mito è descritto in maniera totale. E cioè, Prometeo deve compiere un sacrilegio, perché suo fratello, Epimeteo, aveva l'incarico dagli dèi di portare a ciascun vivente, uomini e animali, le loro qualità. Solo che Epimeteo, che vuol dire colui che pensa dopo, Epi, Metis, no? Si dimentica di chi? Si dimentica dell'uomo. Ha distribuito tutte le qualità, ha dimenticato sto uomo, e sto uomo è lì nudo e crudo. Il fratello, Mosso a compassione, Prometeo, colui che pensa dopo, anzi colui scusate, colui che pensa prima, sa che deve trasgredire il volere degli Deci, deve compiere un sacrilegio. Ruba il fuoco ad un Dio e glielo porta come dono all'umanità. L'umanità ha la Tecne, e cosa fa l'umanità con il dono della Tecne? Lo dice chiaramente Pratone. L'umanità riesce a costruire solo Sinoichia. Traduciamo, Sinoichia sono gli agglomerati. Traduciamo ancora con un termine che ne conosciamo, periferie. Periferie. l'umanità con la Tecne costruisce solo Sinoichia, ma non riesce a sopravvivere. E Zeus vede questo spettacolo e da una parte è furioso perché è stato fregato da un Dio e rubato il fuoco. Dall'altro, Zeus è commosso di nuovo per una grande compassione dei confluti dell'eventuale sparizione dell'umanità e decide di intervenire con altri due doni. E questo è il terzo tempo del mito. Questi due doni che vengono portati all'umanità sono Aidos e Dike. Ora Aidos è una parola straordinaria, forse la più importante per l'architettura, che si può tradurre ed è il Pudore. Pudore e giustizia. Cioè l'uomo, l'umanità, dopo che ha avuto tre doni, tre enigmi, Tecne, Pudore e giustizia, incomincia a costruire la polis, cioè lo spazio della convivenza. Non fa più periferie. Cioè, tra l'altro, periferie, periferin, periferie, periferie, periferin, vuol dire portare in giro senza scopo. Ma c'è una parolina che è ancora più interessante, ferin, feretro. Cioè il nostro ultimo viaggetto è quello nella buca, nella terra. Cioè noi continuiamo a costruire oggi nel mondo tecnico-scientifico periferie. E cioè siamo inalletrato rispetto al tempo del mito. Cioè il tempo del mito sopravvanzano in pratica alla lunga perché siamo ancora solo nel tempo della tecnica. E abbiamo perso questo ricordo dell'Aidos, cioè il Pudore, e di Dike. Tant'è che non riusciamo più a costruire città. Se guardiamo qui solo all'Italia, ma quante città sono state costruite fino a qualche secolo fa? Noi abbiamo il più grande patrimonio di convivenza architettonica che abbiamo realizzato. Ma dobbiamo però anche uscire da questa morsa fideistica che la tecnica e la scienza oggi ci consente di pensare come fede, come fede, e che noi, voglio dire, siamo ormai al sicuro perché, ah, la tecnica ti dice che tu non sei più responsabile di nulla. Nulla. guarda, una volta c'era il peccato. Davvero il peccato è diventata, e anzi, prima il peccato, poi la colpa, che è già un gradino meno del peccato, poi la responsabilità. E adesso, nel mondo tecnico-scientifico, non c'è neanche più la responsabilità. Perché noi possiamo costruire qualsiasi sciocchezza, ma quando diciamo, eh, ma abbiamo seguito le norme, e il progetto è sostenibile, il progetto abbia fatto la partecipazione, il progetto è sociale, come se la videotur non fosse mai stata sociale, no? Ed ecco i risultati che noi abbiamo. Ma nessuno ti mette in prigione, nessuno ti taglia le mani per le sciocchezze che facciamo. Perché? Perché la tecnica è ciò che sia, come dire, assorbe tutta la responsabilità in qualche modo, che poi non esiste, perché è fuori di noi, mentre la responsabilità è solo dentro di noi. Detto questo, e adesso vado a concludere questa chiacchierata, voglio solo dire che il problema dell'architettura è un problema grandioso. Per quale ragione? Ma perché, se torniamo di nuovo alla struttura della parola, a questo tema del tempo che abbiamo detto che noi siamo la totalità dei tempi, dobbiamo mettere in gioco questa ultima questione che riguarda la nostra posizione nei confronti di questa disciplina, che cioè, se noi non abbiamo la consapevolezza critica che siamo la totalità dei tempi, ma siamo in qualche modo dominati solo e prevalentemente dei saperi tecnico-scientifici, questi saperi tecnico-scientifici, rispetto alla forma, ti dicono che noi saremmo i cosiddetti i nominativi, cioè io faccio, io decido, io giudico, quello che Carlo Emilio Badda diceva, che è il verso, anzi il raglio dell'asino. Ma se noi spostiamo l'asse dominante tecnico della tecnica verso l'archeo, la questione è, ma come facciamo, se c'è l'archeo che è indominabile, come facciamo noi a mettere le mani dentro questi indominabili? Per mettere le mani negli indominabili dobbiamo cambiare il punto di vista. Il punto di vista è che noi in questo tempo siamo, appena detto, i nominativi, ma se noi spostiamo quest'asse dalla tecnica all'archeo, perché ciascuno di noi è nel centro tra archèo e tecnica, se noi spostiamo quest'asse noi non siamo più i nominativi, ma noi saremmo i dativi, cioè coloro che ricevono. Cioè noi dobbiamo predisporci a conoscere il massimo dell'orizzonte delle storie che non sono più cronologiche, ma sono come un grande flusso che continua, come dire, a girare e a girare, perché noi siamo l'attualità di tutti i tempi e qui non c'è nessuna nostalgia del passato, perché il passato in realtà per noi non è mai passato, come il futuro non è vero che non è mai avvenuto, perché i nostri desideri sono quei raggi del futuro che colpiscono il nostro tempo e la nostra memoria è qualcosa che proviene dal passato, ma il passato non è mai passato, il futuro è qualche cosa che si avvera sempre. Cioè noi siamo in quel tempo in cui dobbiamo rimettere in gioco radicalmente questa posizione di essere dativi. Cosa vuol dire essere dativi? Guardate, la scienza e la tecnica per procedere, il loro dominio è stato dato da un movimento che è quello del procedere, andare avanti, perché la scienza e la tecnica va avanti, prende le cose, le isola, le analizza, analizzare vuol dire sciogliere, le analizza ancora, ma non riesce più a ricostituire con l'unità, che è l'unità della forma. Dunque la tecnica e la scienza avanza. Noi per avanzare, volendo essere dei dativi, non possiamo camminare in avanti, dobbiamo camminare all'indietro. Perché? Perché se camminiamo all'indietro il nostro cono visivo, se è così vicino alle cose, è piccoli. Ma se io ho il retro, si ampia, se io ho il retro ancora, si ampia sempre di più. E quell'ampiezza è quella fessura, è quell'apertura che permette al mondo di manifestarsi per quello che è. E allora noi possiamo in qualche modo recepire qualcosa di quelle immagini o potenze invisibili che plasmano poi la forma, che danno il risultato poi nelle opere di architettura. L'architettura è un grande mistero. Quindi io credo che le potenze invisibili, che io chiamerei le cosiddette immagini, le immagini non si presentano mai da sole, perché si presentano sempre sotto un altro aspetto. Per l'architettura è l'aspetto della, non so come dire, della pietra, gli toni, i colori, la costruzione, tutto quello che si vuole. Però voglio dire, è quell'immagini, sono quelle delle potenze invisibili che noi non possiamo dominare, che plasmano dall'interno la forma e che continuano ad alleggiare sulla superficie di queste architetture. Voglio solo dire che per esempio Orfeo è la grande metafora dell'architetto. Perché? Ma perché Orfeo, che è un poeta, cantore, operario, poesia, che è fondamentale vuol dire produrre, in greco vuol dire produrre. Dunque tutti noi siamo al fondo o in cima poeti, perché siamo i produttori, non c'è niente da fare. Dunque la poesia è molto più importante di quanto non si crede. Ma Orfeo, quando perde e un'indice, cosa farà? Lui vuole avere, ricevere un permesso per andare nell'Ade e riprendere la sua amata. Per fare questo, come dire, si mette a cantare e a suonare fino a commuovere non solo gli dèi, ma anche la natura, le montagne, i boschi, tutto si avvicina a lui, e anche gli dèi ascoltano questi canti straordinari e gli danno il permesso di scendere nell'Ade. E scende nell'Ade. Però gli dicono, mi raccomando, attenzione, non... Ma era un dio, Orfeo. E lui scende, trova e un'indice che è, come dire, tutta avvolta nel suo sudario, la porta in superficie e quando è lì per uscire nel mondo dei, come dire, dei viventi, si guarda indietro e sparisce. Ma qual è la morale di questo... di questo mito? La morale di questo mito è esattamente la racchè. Perché lo Orfeo siamo noi, è un ridice, è architettura, è architettura. Ciascuno di noi, se è un vero architetto, un autentico architetto, dovrebbe fare questo tragitto. Devi andare in un luogo che è non accessibile, perché devi rischiare la vita, cioè devi rischiare tutte le tue energie per andare in quel punto, prendere quello che puoi prendere, ma torni a mani vuote, ma veramente torni a mani vuote. No, perché se è un premondo, è un'indominabile, l'architettura è un'indominabile, ma tu hai fatto l'esperienza del viaggio, l'esperienza del viaggio è l'esperienza della totalità dei tempi che stanno prima e dopo di te. E in questo modo tu puoi in qualche modo assorbire qualcosa di ciò che è indominabile. E tra l'altro questa parola sarebbe che oggi, per fare l'architettura si può fare in maniera molto veloce, senza tante responsabilità, ma la parola che sta come denominatore comune di Orfeo è il dispendio, cioè tu devi investire tutte le tue energie e anche qualcosa di più per poter giungere a sperare in qualche risultato. Questo è uno. Ma l'altro, il mito di Medusa è altrettanto fondamentale per l'architettura, perché sappiamo che Perseo, per uccidere il mostro che è Medusa, deve guardare nello specchio che è tenuto tra le braccia di Atena. Ma che cosa vuol dire questo fatto che deve guardare lo specchio nel quale si riflette le immagini di Medusa? Il mito in realtà dice che lo scuro di Atena diventa uno specchio. Ma il mito delle volte è ancora più raffinato di quanto non pensiamo, perché se fosse veramente uno specchio, lo sguardo di Medusa, riflesso per intero su Perseo, lo pietrificherebbe. Per capire che cos'è quello specchio che intende il mito? Bisogna leggere il capo XXIII di Neviliade, perché neviliade c'è la descrizione dello scudo di Achille, che è fatto da Efesto. E cos'è questo scudo di Achille? Lo scudo di Achille è uno scudo pesantissimo, dove Efesto incide in maniera raffinatissima tutto l'universo, tutto. Ma è talmente raffinata questa incisione che è uno specchio. E solo in quel modo Medusa, quando Perseo guarda l'immagine riflessa della Medusa e dello specchio, il viso di Medusa viene rifratto in tutte le forme dell'universo. E' per quello che Perseo, che vuol dire colui che decide, può recidere la testa a Medusa. Però Attenzione Perseo è così mosso da Aidos, da Pudorre, che lui taglia la testa a Medusa. Proprio per questo motivo. Prende la testa di Medusa, la tiene con gli occhi rivolti verso il basso, qua sulla spiaggia, e sulla spiaggia aveva già preparato un letto di Achille, che aveva preso dal mare, e appoggia la testa di Medusa, che ormai è tutta insanguinata, su questo letto di Achille. E cosa succede? Che le Achille diventano i coralli rossi. Cioè, anche qui c'è un'ulteriore raffinatezza, per cui anche noi dobbiamo in qualche modo recidere ma chi è Medusa? Guardate che Medusa, te lo dice, dicono in tanti, insomma, è la realtà che sta di fronte a noi. Se noi pensiamo, e qui c'è il sistema ternario, Orfeo, Atena, lo scudo e Medusa. Per arrivare a colpire Medusa devi guardare qui. Il sistema ternario è il sistema delle immagini. Idea, immagine, forma. Idea, immagine, forma. L'universale, il particolare, il cosiddettoriale, ma il reale è tutti e tre messo insieme. Ma se tu guardi direttamente Medusa, il sistema è binario. E qual è il linguaggio fondamentale del nostro tempo, quello dei computer? Binario, 0, 1, 1, 0. Finito. E noi pretendiamo di guardare con l'occhio diretto la realtà che ci pietrifica, difatti siamo pietrificati e basta vedere che cosa abbiamo prodotto negli ultimi settant'anni. Sono periferie. E stiamo ancora procedendo su questa strada. Cioè, voglio dire, i miti non sono storie, i miti sono quei racconti veritativi che si, come dire, che rendono l'attualità non solo per il momento del presente che noi viviamo, ma nella sua assoluta totalità. Questa è la grande questione, secondo me, che riguarda architettura. Perché architettura ha questo suffisso iniziale che si chiama Archei. e non possiamo dimenticare. Se noi la dimentichiamo, l'Archei la vuole ugualmente. Finito. Io adesso mostriamo un po' di immagini e così vediamo se quello che ho detto ha qualche connessione con le parole pronunciate. Dove siamo? Va bene, va bene. Beh, allora, vi presento velocemente quattro progetti, di cui uno realizzato e tre non realizzati. Li vorrei realizzare, ma sarà molto difficile. Questo è stato realizzato. È un concorso del 2004. È stato il teatro, non è il teatro di Dantzica, il teatro Elisabetiano a Dantzica. Come è quei avanti? Beh, quello che avete visto era un'immagine, un'iconografia del diciottesimo secolo, dove questa Dantzica è, come dire, fa come un collare, un collo di erbellino, perché tutto è ancora ghiacciato, è un'immagine straordinaria. Qui, queste immagini, le vecchie tonografie, sono straordinarie perché mostrano qual è in qualche modo l'innocenza che sosteneva in maniera silenziosa ogni progetto di città. Che sono delle cose straordinarie, no? Perché è lì che sospesa nel vuoto, in questo bianco, in questo ghiaccio totale. Però andiamo avanti e ogni progetto che noi facciamo, analizziamo non solo le mappe storiche, ma anche il paesaggio, la morfologia, insomma, perché vogliamo tradurre ogni pensiero in una tridimensionalità, cioè mai perdere questa relazione tra pensiero che è astratto e la tridimensionalità della materia che devi manipolare. Ma l'altra cosa interessante da sottolineare in questo caso è che il teatro elisabettiano, che è il teatro shakespeariano, era un teatro la cui psicologia era molto semplice. Originariamente era una corte, senza una corte a cielo aperto, dove la scena era nel centro della corte. Però il concorso, il concorso è stato fatto perché nell'area dove è stato costruito il nuovo teatro shakespeariano, nel 1600 era stato il primo teatro in legno shakespeariano costruito in Europa. E lì questo professor Lino aveva scoperto negli anni le tracce di questo vecchio edificio, c'erano ancora, non so, nelle fondamenta sottoterra, a tre metri, ancora dei pali di legno che testimoniamano la presenza di questo creato. E' stato fatto questo concorso internazionale dove in commissione c'era Rati Zotzaki e anche Andrew Vajda, il regista polacco, che è morto tra l'altro due anni fa, non so, comunque l'anno scorso. Ma il programma esigeva non solo il teatro elisabettiano, ma voleva anche il teatro all'italiano. Ora, è già una contraddizione, un'opposizione che è insanabile, perché come fai a mettere insieme un teatro che ha la scena fissa, che è nel centro della platea degli spettatori, mentre il teatro all'italiana il punto di vista è all'infinito e tu devi orientare tutti gli spettatori verso l'infinito. Questa inconciliabilità anche delle proposte, delle volte, sembra pazzesca però è stato fatto, è stato pensato sia per il teatro elisabettiano sia per il teatro italiano, però il teatro all'italiana è stato un po' sacrificato, perché voglio dire che la struttura del teatro elisabettiano era definita proprio anche dal punto di vista storico, dalle tracce di ciò che era stato costruito nel Seicento. Detto questo, il grande problema, dal punto di vista pratico, è quello di seguire il teatro elisabettiano, deve avere o non deve avere il tetto? E il concorso diceva, bisogna avere un tetto, ed è logico che deve avere un tetto. E qui il problema era, ma riusciamo noi a fare un tetto che sia apribile? Allora, certo che si può, perché per fare il sliding nella roof è molto semplice, ma quello non avrebbe detto nulla. Abbiamo poi tentato di fare questo tetto che si apre con le ali verticali. Ma adesso io vi ho dato una descrizione molto, non so come dire, molto funzionale di questo programma, ma c'è un presupposto che sta prima, che è molto più significativo e che è in seguente. Innanzitutto, la Polonia. La Polonia fa questo concorso nel 2004 e lancia questo concorso, teatro elisabettiano, quando l'Europa entra ufficialmente nel mercato economico europeo, cioè l'Ascia, aveva lo sguardo verso l'est e lo ruota di 180 gradi verso l'ovest. Non è secondario. Perché lo sviluppo della Polonia è stato dato proprio dai grandi finanziamenti dell'Unione Europea e i finanziamenti arrivano, cominciano ad arrivare proprio dal 2004 e poi. Punto uno. Cioè, la Polonia danzica in quel momento ha cambiato radicalmente di 180 gradi il suo sguardo. Punto due. Nel 1989, con il contributo di Papa Uttiva e soprattutto di Solidarno, ecco il movimento sindacale, che era il decale in quegli anni. E la covenza, insomma, è stato in prigione, un sacco di cose. Però, con il contributo di Solidarno, che è nato ad Anzica, e con il contributo di Papa Giovanni Paolo II, è stato abbattuto il muro di Berlino. Sì, ma il muro di Berlino, tutta la cortina di ferro che andava dal Baltico a Trieste, ha cambiato la geografia politica dell'Europa centrale. Il problema era, ma come si può fare un teatro dove la scena del mondo o dell'Europa in quel momento era di questo tipo? Allora, una delle prime considerazioni è l'abbandono. Mi spiego subito. Abbandonare che cosa? Abbandonare il più possibile i codici di un linguaggio che, soprattutto, per esempio, in Polonia si stava fermando in maniera totale. Cioè, costruire secondo i dettami dell'architettura contemporanea, grattacieli, grattacieli, strade, perché c'era una quantità di soldi drammatica da questo punto di vista. Dunque, abbandonare quei cliché e ripensare, per esempio, tutta la storia e questo scenario del rovesciamento, dello sguardo, ed è per quello che è stato fatto questo tetto che si apre in verticale e tutto il corpo del teatro deve essere molto robusto. Ma per quale ragione deve essere molto robusto? Perché lui deve difendersi dalla risoluzione della città nella quale lui è destinato ad essere costruito. Perché è esattamente sul bordo delle vecchie mura di Danzica. A fianco hanno costruito in quegli anni una superstrada che va da Danzica a Varsavia e dunque, quindi, finisce il centro storico e iniziano i grandi caseggiati costruiti sotto il comunismo, che erano delle robe distanti, 500 metri l'uno dall'altro. Cioè, qualcosa di... Quando Shakespeare, Shakespeare è quel pensatore che ha inaugurato con la sua opera la modernità, Sì, ma che modernità? Cioè, una modernità che risucchia tutto il mondo, per esempio, dantesco, no? Perché sulla cibo, quando arriva Dante, che chiude il mondo classico, dopo due secoli arriva il nostro libro, due secoli dopo. Quattro secoli arriva... Tre secoli arriva Shakespeare e rovescia questo triangolo che era l'apice di Dante e lui apre ad un altro mondo. Sì, tant'è che Shakespeare dice tutto il mondo è un palcoscenico. Eh, ma che palcoscenico? In questo caso, il palcoscenico non era più la terra in quanto tale, ma quel cielo che stava sopra che poteva riflettere tutta la terra in quanto tale. È per quello che è stato aperto questo tento con le ali aprimi. Ma le ali aprimi verso l'alto è stato un rischio che è durato fino alla fine della costruzione, perché era una delle cose più difficili da realizzare, anche perché sono orientate... i venti vengono dal nord e loro sono ortogonali alla direzione dei venti nordici. Dunque, quando alzi una vela di 22 metri è una roba... ha una scarica di forze sulle murature, sulle fondazioni che sono enormi. È per quello che la struttura... Ma vai pure avanti un po'. Non si capisce ovviamente. La struttura esterna è tutta nervata proprio per assorbire queste forze statiche che sono dovute soprattutto ai venti. Il tetto si può aprire fino a quando i venti non superano i 40 nodi di velocità, per cui non è proprio una sciocchezza. E poi, durante il periodo del cattiere, è stato un periodo drammatico, perché si doveva combattere non solo con la lingua, perché le conversazioni avvenivano in inglese. Poi le relazioni ufficiali erano fatte con il traduttore polacco italiano. Era un cantiere che era stato finanziato con i soldi europei, però prevalentemente ha lavorato solo con polacche. E voglio dire che le difficoltà a costruire sono state enormi. Però bisogna dire una cosa, che lì la capabilità polacca ha avuto la meglio, perché non avendo ugualmente i soldi iniziali, sono riusciti a fare completamente tutta l'opera. E se uno mi chiedesse ma qual è il raggiungimento della qualità dell'opera rispetto al concorso, dico, guarda, il 70%. Il 30% me lo sono ingoiato tutto e l'ho anche pagato, però per il 70% è stato realizzato. Ma la cosa più difficile è stato quando hanno applicato, quando hanno appaltato il tetto, appaltando il tetto, invece di appaltarlo unitaliamente come era previsto nel nostro capitolato d'appalto, l'hanno appaltato smettrandolo in tre parti, le ali in Polonia, ma non ad Anzica ma ad Torun, i motori per far girare i pistoni a Marsiglia, in Francia, e la costruzione dei pistoni, la parte meccanica, a Madrid. Quando ho saputo questo, ho detto, mamma mia, qui è un momento in cui ci facciamo la croce, perché come fai a metà di insieme? E allora ho cominciato a andare a Madrid, a Marsiglia, a Torun. Ma quando sono andato la prima volta a Torun, ho capito che la storia è molto più intelligente dei tuoi desideri. Perché a Torun, di cui non sapevo nulla, che è a 300 km da Danzica, è nato Copernico. Copernico è quello che è fatto alla rivoluzione. E ho detto, caspita, siccome Copernico, tra l'altro, è venuto in Italia, ha studiato a Padova, Bologna, Roma, poi è tornato come ecclesiastico in Polonia, ma in Polonia ha definito la sua legge, e poi Galileo l'ha in qualche modo risostenuta. Dunque, se loro guardavano il cielo in un certo modo, ancora di più questo teatro dobbia avere le ali aperte, e sono state garantite proprio perché sono state costruite a Torun e non da un'altra parte. E questo bisogna dire grazie alla storia che delle volte è molto più intelligente di quello che pensi te. Ecco, tutto lì. Non vorrei dire di più... Ecco, c'è una cosa... Vai avanti? Vai pure avanti. No, poi c'era un'altra cosa che non era così semplice, perché l'ultimo teatro che io conoscevo, costruito, e che mi aveva affascinato era il teatro di Rossi, il teatro del mondo. Eh, ma questo teatro del mondo, la domanda è stata ma come si fa a costruire un nuovo teatro quando Rossi ha fatto quella magia di progettare e realizzare il teatro del mondo che è una pura apparizione? Perché il teatro del mondo è stato costruito sapendo che sarebbe stato distrutto. e lui è passato sul canale della Giudecca su una chiatra con questo edificio strabiliante, un giocattolo bellissimo, è andato a finire a Dubrovnic e dopo un anno, non so poi chi è, è sparito. C'è un teatro che si fonde sul principio dell'apparizione. Ecco, prima ho detto l'abbandono. in realtà il tema fondante del progetto di Nanzica è la kenosis, cioè lo svuotamento. Come può, siccome appunto l'archetipo elisabetiano è un teatro che è vuoto, perché la corte è vuota, ma poi si fa a costruire un edificio che ha una copertura, che bisogna avere la copertura, ma che in qualche modo realizzi questo tema del vuoto e questo in qualche modo è stato potuto, si è potuto realizzare attraverso questa apertura però delle ali verticali. Mai si sarebbe fatto, mai avrebbe, come dire, l'idea sarebbe stata tradotta in maniera corretta se avessi usato il tetto scorrevole, perché alzando le ali tu raddoppi il volume interno e poi questo raddoppiamento ti fa fare un'esperienza all'interiore di spazio che è totalmente diversa che vedere un tetto che scorre orizzontalmente. Finito. Andiamo avanti sull'interno. Vai, vai. Beh, lì insomma le parti meccaniche sono molto complesse, poi è stato molto difficile perché abbiamo dovuto abbandonare tutti i nostri consulenti, tutto lo staff ingegneristico italiano, perché non si poteva, non lo veniva incertato dalla Polonia, abbiamo dovuto lavorare con i polacchi, i polacchi hanno un metodo di lavoro che è totalmente diverso dal nostro perché vanno via con una velocità strabiliante, hanno mandato i primi disegni e dopo una settimana e dopo una settimana mi arriva tutto con gli impianti, il staff, il progetto era cambiato totale, totale. Avevano messo in mezzo alla sala due tubi da due metri e mezzo per il ricambio per il ricambio d'aria una litre che è durata un anno, un anno, dopo però alla fine quella l'abbiamo vinta, ne ho perse tante altre, ma insomma, però bisogna dire che al 70% è stato centrato il progetto. Bene, via, via, via. Andiamo al secondo che non so, ah sì, ah, questo è Firenze, si apri, guarda, oh, Firenze, questa è la cupola di Santa Maria del Filore. Allora, due parole iniziali su questo progetto. La triennale, sei, sette anni fa, non mi ricordo niente di una data, mi telefona e mi dice vorresti partecipare a questa mostra che vorremmo fare a Como, nell'edificio di Terraghi, sul tema dell'aula ideale. Il tema era dovevi progettare tra, c'erano tre livelli di aure, elementari, medie e universitari. Però, era un'aula ideale e io ho detto subito, automatico, sia interessante questo tema, ma quanto pagate? Fate zero? Oh, mamma mia, zero. Dico, ci penso. Ma nel frattempo era già nato il progetto. Perché era nato il progetto? perché vent'anni prima le prime lezioni che ho fatto fuori dal UAB le ho fatte avvene a Firenze e una di queste prime lezioni era in una sede che era dell'università vicino a Santa Maria del Fiore, solo che era in un condominio e tu dovevi attraversare un parcheggio di biciclette, almeno un migliaio di biciclette, poi scendere in cantina dove c'erano i tubi della fognatura, riscaldamento, entravi in una cantina e gli dovevi fare lezioni di architettura. Allora io ho sempre chiesto a questi studenti e gli ho detto ma scusate, ma perché non uscite da questa cantina, ci spostiamo cento metri e andiamo nel Duomo? Cioè, lì c'è la Santa Maria del Fiore che è una cosa straordinaria e lì si possono fare delle lezioni. Questa questione si è come persa nel tempo ma poi ha maturato ed è diventata un'ossessione e quando abbiamo telefonato la triennale zonf subito è scattata l'idea scattata l'idea che è la seguente è la prima immagine questa? No, è la sopra non so se vedete un pochino allora quello lì è la sezione della cupola questo progetto è fatto è per una aula tra virgolette universitaria che non c'è da poi nulla è fatto in due tempi i due tempi sono eseguiti c'è un primo vai avanti un attimo ecco allora vedete quell'ottagono l'ottagono è esattamente l'ottagono di base sulla quale appoggia la cupola lì quello che vedete il primo elemento è una sorta di grondaglia che viene fatta e che si appoggia sul secondo camminamento dell'ottagono di base una grondaglia dove lì dentro si siedono 92 sì 92 studenti ogni tre mesi per tre mesi consecutivi 92 studenti si siedono lì dentro e c'è un professore che ogni giorno cambia perché insegna a questi 92 studenti i fondamenti di qualsiasi disciplina hai letto ora ingegneria scienze neurologia medicina danza tutto quello che si fa i fondamentali poi secondo tempo vedete la sfera allora il primo anno ci sono ci sono le stagioni quattro stagioni 92 o 91 studenti ogni stagione sono 365 studenti in un anno che passano lì dopodiché il secondo anno uno studente sale e va sulla lanterna e quando è sulla lanterna entra in questa sfera che è una sfera dorata che ha un braccio che è tenuta da un braccio di tre metri su di un anello questa sfera impiega un anno a ruotare attorno alla lanterna del Brunelleschi va a farvi vedere ecco la lì sopra c'è la sfera del berrocchio sotto c'è quella lanterna che è intermedia tra la sfera del berrocchio e gli oculi dell'ottavo lì entra uno studente che sta un giorno in questa sfera e dico perché tutto questo allora vai avanti ecco ferma lì gli studenti il primo anno i 90 studenti che frequentano la prima stagione devono arrivare sul barbatoio e devono scendere in questa volontaria che è fatta di di acciaio ma soprattutto come si chiama in titanio o tutte queste cose sono già state calcolate fin dall'inizio da un ingegnere bravissimo si potrebbe costruire ancora domani mattina per montare quella rondaria non serve nemmeno un bullone perché quando è montata si deve fare un botteggio aereo quando è montata lei appoggia ed è autoportabile e dopo è destinata dopo due anni ad essere smontata tanto per essere chiara lì lo studente impara i fondamentali si ma impara i fondamentali in che modo lui è a sbalzo cioè non ha la terra sotto i piedi perché è a 53 metri rispetto al piano del presbiterio ed è a 45 metri sotto la cupola ora sotto 45 metri di abisso e sopra c'è la cupola che è il giudizio universale del vasale però lui impara questi fondamentali è fermo fisso ma ragazzi è sul vuoto totale tutto questo è organizzato computer totalmente confiente non si sente nulla però gli studenti fanno questa esperienza finito l'arco dell'anno uno studente il primo giorno di gennaio prende e sale e va sulla cupola la cupola va sulla lanterna ed entra in questa sfera lui entra nella sfera e sta un giorno la sfera un giorno starà dentro 5 ore 6 ore 8 ore perché vuole ma in 24 ore la sfera fa solamente 11 centimetri di circonferenza e per fare tutto il suo per finire tutto il suo il suo giro impiega esattamente un anno lì lo studente fa l'esperienza della singolarità termine che prima non ho detto e che adesso ho completo nel ragionamento fatto prima perché quando parlavamo del bio cioè dell'individualità l'individualità è un concetto netto l'individualità nell'ambito tecnico-scientifico diventa un arbitrarietà e cioè tutto è riferito a te come io ma noi siamo destinati alla singolarità che è la relazione consapevole tra la nostra universalità e la nostra particolarità perché ciascuno di noi è un universale perché ma perché non c'è nessuno di noi che ci assomiglia noi tutti siamo tutti diversi anche se io avessi un gemello anche il mio fratello gemello sarebbe diverso da me questo vuol dire che l'universalità anzi scusate la singolarità ha qualcosa di molto potente che l'arbitrarietà non ha perché è l'autonegazione dell'io la singolarità e volete un esempio straordinario di questa autonegazione dell'io cioè la separazione tra quello che è l'opera in quanto tale e l'autore in quanto tale la più importante è proprio qui sotto gli occhi io farei una scommessa di un milione di euro e chiederei agli studenti di architettura di tutte le università di architettura chi è il progettista della Fontana di Trevi allora durante il giorno ci sono migliaia di persone che sono stordite dalla bellezza di questo fantasma che si può vedere e tu vai a chiedere scusa chi è l'autore di questo chi è che conosce Nicola Salvi ma sì qualche critico qualcuno di noi certo ma non è certo e Michelangelo mamma mia e non è certo non è un nome che si conosca e cioè cosa vale vale in quanto lui ha non so come dire ha separato era quel tempo eccezionale perché si separava la questione della personalità con l'opera l'opera ha una personalità che non c'entra con la tua dunque la singolarità è sempre la singolarità dell'opera ma è anche la tua singolarità perché il tuo io deve essere si deve negare ma perché viene a galla il tuo sé e su questa questione da poi riprendiamo un secondo siccome insegno all'università vorrei fare una piccola distinzione tra quello che è la parola educare e la parola istruire tant'è che è molto strano che il nostro ministero delle scuole si chiama ministero dell'istruzione non dell'educazione è molto strano ma detto questo la differenza tra educazione e istruzione per me è molto chiara ed è la seguente istruire vuol dire insegnare a fare solo quelle cose cose che hai imparato educare vuol dire insegnare a fare cose che tu non hai ancora imparato perché l'educazione eccede ciò che tu impari e devi mettere in gioco tutto il tuo tempo dunque l'educazione è quella quel sapere che porta a galla quelle immagini che sono dentro di te ma che tu non le conosci perché la tua interiorità è tanto grande tanto quanto l'universo e qui l'esempio di Salvi è perfetto cioè Salvi ha fatto un'opera che voglio dire noi adesso ci godiamo quell'effetto ma lui non era sicuro di quell'effetto non so come dire cioè noi nell'educazione insegniamo a fare dovremmo insegnare a fare cose che non abbiamo ancora imparato questo secondo me è qualcosa di molto molto importante e questa questione dovrebbe essere pertinenza dell'università perché capisco l'istruzione alle scuole elementari medie e anche superiori ma all'università non c'è più l'istruzione bisognerebbe fare l'educazione e tra l'altro su questo tema c'è un bellissimo articolo pubblicato sul settimanale la lettura del Corriere della settimana scorsa o forse ancora questa settimana un testo il cui titolo è abbiamo bisogno oppure abbiamo bisogno di insegnanti e diceva veri questo è Cadrosini che è un filosofo che fa un articolo straordinariamente interessante proprio su quelle sul problema che hanno le facoltà o le università umanistiche come appunto architettura che non è una disciplina prettamente tecnica e antetecnica assolutamente ma è una disciplina umanistica perché umanistiche solo perché noi siamo animali simbolici e la forma è sempre qualche cosa di simbolico tant'è che anche le nostre parole che noi usiamo le parole sono dei veicoli simbolici perché la A la B la C sono figure che noi abbiamo qua e ci portiamo dietro il senso di casa cane cammino e via di sé detto detto questo però questo progetto è nato anche per un altro motivo e voi dite ma tu sei stato veramente cos'è come dire prepotente no? a salire sulla schiena di Brunelleschi un pochino un pochino sì ma non troppo ma perché? ma perché quando ho letto anni fa la storia il libro ricerche del rinascimento del grande Manfredo Tafuri il libro inizia con la novella del grasso del miaiuolo che era una burla che ha fatto Brunelleschi ad un suo amico tagliatore facendoli credere che lui era una persona diversa da quello che lui era e l'hanno fatto diventare matto dico matto ora siccome è una burla e a Brunelleschi piacevano le burle gli scherzi a me piacciono un po' le scommesse e ha giocato sulle spalle di Brunelleschi spero che Brunelleschi non si incazzi più di tanto però voglio dire se era un giocherellone anche lui penso che possa accettare una pacca sulla spalla e dire detto questo finito andiamo avanti prossimo non so da quanto tempo sto parlando e vorrei chiudere il terzo il terzo progetto riguarda invece Lampedusa ecco anche qui riguarda Lampedusa perché Lampedusa perché è il tema dei migranti ora di nuovo come fa l'architettura a rispondere a certi a certe questioni che sono le questioni cruciali del nostro tempo risponde secondo la logica del nostro tecnico che è sostenuta dalle questioni tecnico fisico-tecniche ed economiche e devo dire che a me ogni volta che mi venivano a parlare Lampedusa a parte che attraccavano un sacco di migranti ma che finivano a dirgli hot spot mi chiamano una hot spot è quella parola inglese che non so come dire distrugge ogni consistenza di quell'isola cioè quell'isola non esiste più è un hot spot cioè un buco passante diciamo e quanti soldi hanno sprecato su queste questioni ma ma la cultura europea ma scusate la cultura europea ma non è fondata sul tema delle migrazioni del pensiero e del sapere cioè non è un'unica cultura l'europea è la convergenza di infinite migrazioni spirituali intellettuali ed è solo ed è una grande cultura proprio perché è saputo mettere come dire fare una critica delle diverse posizioni per diventare l'Europa che è ma adesso l'Europa pensa solo in maniera come dire ancora tecnico economico finanziata è finito qui il problema è le grandi opere che sono state costruite nella nostra storia sono tutte state fatte da migranti di qualsiasi tipo i milanesi che andavano a Napoli i napoli che andavano a Roma i veneziani che andavano a Genova forse si odiavano ma insomma migrazioni ce ne sono state sempre il problema è non si producono più opere e io direi invece che oggi come oggi sui migranti il problema di questo il problema di fondo di questo progetto è fare un'opera che può essere fatta da migranti ma che è un'opera che rimane come monito per il nostro tempo e cioè una cattedrale che è totalmente invisibile ma perché una cattedrale invisibile a Lampedusa una cattedrale invisibile perché invisibile è l'interiorità di quest'isola come invisibile è l'interiorità di ciascuno di noi e soprattutto di un migrante in questo caso beh il progetto parte sempre da analizzare i frontali marini in questo caso a grande scala e lì emerge per esempio solo facendo questi modelli in gesso una questione che si può capire anche in un altro modo ma che il modello mette in evidenza l'isola di Lampedusa che è a sud della Sicilia non è un'isola che appartiene al plateau europeo appartiene al plateau africano cioè geologicamente è africana politicamente è europea sì ma è come un promontorio che sale su di un labbro perché dall'isola di Lampedusa verso sud la profondità dell'acqua lì sarà 300 metri 400 metri ma subito dopo Lampedusa poi giù uno strappiogo al 1200-1520 già questo è interessante ma c'è un'altra cosa ancora più interessante ed è per quello che è stata scelta Lampedusa per questo tema non solo per i migranti ma Diderot per ciclopedi era anche tra l'altro uno scrittore di opere teatrali e il problema di Diderot nel suo tempo era il seguente lui diceva che ci sono due grandi categorie nel teatro la tragedia e la commedia ma la tragedia per lui era troppo classica e dunque non era confacente al suo tempo la commedia era troppo frivola mancava un terzo una terza categoria del teatro questa terza categoria secondo lui si chiamava il dramma e questo dramma il figlio naturale dov'è che lui lo mette in scena a Lampedusa lo mette in scena a Lampedusa perché lui ritiene che solo in un'isola vergine tanto quanto a Lampedusa non si poteva altro che rigenerare un altro concetto di civiltà ora a Lampedusa ci sono stati due grandi come dire drammi uno cattroquinto che perde credo 8 10 navi che si sono per una tempesta che era accaduta lì nelle acque sud di Lampedusa come poi nell'ottobre 5 anni fa o 6 anni fa sono morti questi 300 migranti proprio per lo stesso motivo allora prendendo spunto proprio da questo dramma Lampedusa non so se si vede veramente sempre sono modelli di studio preparatori perché perché il vero progetto in questo caso non è un'idea stratta il vero protagonista del progetto è Lampedusa ma Lampedusa è il corpo anche del migrante è la stessa cosa avanti Lampedusa avanti Lampedusa non so chi di voi conosca Lampedusa ma è un'isola straordinaria perché ha un bordo scogliero che è potentissimo di una bellezza unica e avanti beh qui il vero lavoro è come si può mantenere nelle fasi di progettazione la fascinazione di questi luoghi quel tema dello stupore che tu hai accennato prima è uno dei temi fondamentali del nostro lavoro cioè come si fa nel processo progettuale a mantenere sempre come dire nel più alto livello questo tema dello stupore e il tema dello stupore può avvenire solo se tu lo lavori proprio con la materia nella maniera più raffinata possibile devi essere molto molto preciso ma devi dedicare un sacco di tempo perché è un lavoro infinito perché bisogna disegnare ridisegnare mille volte i disegni selezionare poi tutti questi modelli sono fatti con dei cartoncini da 0-3 mm cioè ce ne vogliono centinaia centinaia migliaia di livelli perché dopo si fanno diventa il primo positivo poi si fa il negativo con la matrice in gomma e poi si fa il certo finale cioè è un lavoro molto complesso e molto faticoso però è quello che ti garantisce di mantenere la fascinazione di quei luoghi avanti beh lì vedete questa è sezione abbiamo sezionato l'isola a quota mare e si vedono gli elementi fondamentali del progetto quella linea verticale è una galleria che lunga un chilometro e duecento metri che taglia tutta l'isola questa galleria è alta 48 metri in quelle gallerie possono entrare i barconi dei migranti perché lì le acque si calmano questo è inevitabile però è una galleria monumentale che è alla scala dell'isola gli elementi si incrociano scendono entrano nel vuoto nella cavità di questa cattedrale chi ha un occhio come il patten non è molto grazie allo stesso diametro del patten solo che è molto più alto è alto due volte perché è alto 96 metri e poi c'è un altro collegamento che è una discenderia anzi sarebbe una ascenderia dove il migrante esce sul centro dell'isola ed è sul palcoscenico di un mondo straordinario però è salvo si salva ma tutto questo scavo tra l'altro la roccia di di Lampedusa ha la stessa consistenza come dire geologica delle delle aree attorno ad Ario dove c'è anche il come si chiama possagno possagno canova bene è la stessa la stessa geologia la stessa pietra che c'è lì e che canova ha usato per fare il suo il suo tempio ed è quella che c'è a così a Lampedusa il problema è che scavando si formano delle decorazioni naturali all'interno date dalle diverse vele di materiali che non sono nient'altro che la rappresentazione di quello che noi potremmo avere della nostra anima perché la roccia di Lampedusa ha impiegato miliardi di anni per farsi ma quei miliardi di anni mostreranno una come dire una scenografia speciale che può comprendere e riflettere la nostra interiorità avanti oh avanti avanti corri via vai vai anche anche questo progetto dal punto di vista statico è sempre calcolato nei suoi dettagli non c'è progetto che noi facciamo che non sia possibile fare certo questo sarebbe un progetto costosissimo che cosa vuol dire costosissimo hanno sprecato milioni e milioni di euro per nulla pensate questo progetto è postumo e dopo quello di Firenze perché quando il Brunelleschi ha costruito la cupola che fino ad allora non si poteva costruire ha prosciugato le casse del comune di Firenze e tutti lo hanno erano arrabbiatissimi perché c'erano molti poveri c'erano sì ma lui ha impostato il cantiere più moderno d'Europa uno due l'opera d'arte che ha costruito anzi quando un'opera è un'opera d'arte il suo valore continua a crescere e Firenze e gli italiani continuano adesso ad avere un income per quell'opera pensate qua voglio dire l'architettura non è qualche cosa che deprezza il valore del mondo anzi è ciò che sostiene il valore del mondo ma bisogna riuscire a staccare questa dicotomia tra quello che è l'autore perché oggi è molto più importante il nome di un autore rispetto al titolo che ha un'opera l'opera deve staccarsi dal proprio autore e l'autore dovrebbe sparire ecco il senso della cosiddetta singolarità avanti beh insomma questi sono modelli anche molto complessi per fare questo progetto hanno lavorato 200 quasi 200 studenti in tre anni in tre anni accademici per cui io adesso non voglio introdurre il tema della didattica scuola però qui la fortuna è di poter fare dei progetti che altrimenti sarebbero impossibili mentre si possono fare proprio l'università perché il principio fondamentale di ciascun progetto a qualsiasi livello di quel principio non è detto che uno lo raggiunga è il tema dello stupore come fa uno studente che ha le prime armi a fare qualcosa da solo no? subito immediatamente no? il traino è costruire un'esperienza dove il denominatore costante sia proprio lo stupore delle cose che fai eh lo so è molto difficile perché all'inizio gli studenti non sono così contenti poi cominciano a storcere il naso meno ma alla fine non si allontanerebbero mai più dai pezzi che hanno fatto perché sono sempre lì che dicono no mi scusi adesso devo finire di pulire questa fuga lascia stare che lo stai rovinando insomma in ogni caso ho più critiche che che applausi per cui è una bella lotta non ogni anno ho le ispezioni in aula perché è un laboratorio sì è un laboratorio sporco il pavimento eppure vengono a chiedermi danni su avanti e l'ultimo no no è l'altro progetto no adesso chiudiamo ci siamo qui è tiboli questo è un progetto fatto l'anno scorso che poi l'ho ripreso quest'anno con gli studenti per terzo anno abbiamo fatto il concorso per il premio Piranesi per la riprogettazione della cosiddetta buffer zone che non ho mai capito cosa voglia dire questo buffer ma ho capito cosa vuol dire ma dimmi te se devo dire in italiano buffer zone una zona come dire di rispetto per un'area monumentale come Villa Adriana e come Villa Este va beh detto questo ci siamo oh ecco allora il progetto è come si può intervenire in un'area di rispetto per valorizzare sia Villa Adriana sia Villa Deste perché l'obiettivo è Artivoli allora la prima questione è stata quella di analizzare solo un attimo Villa Adriana e soprattutto Adriano e Adriano dà l'indicazione del progetto perché Adriano è quell'imperatore romano che è il primo che comincia a impostare intanto l'amministrazione di un impero ma per impostare questa amministrazione fa due cose che non sono secondarie la prima costruisce il Limes in Gran Bretagna cioè definisce deve definire un limite e la seconda ancora più importante restituisce la Mesopotamia dice quest'area l'impero è troppo grande per essere controllato e amministrato come si deve dobbiamo restituire una parte di territorio e restituisce la Mesopotamia questo tema della restituzione diventa il fondamento del progetto cosa vuol dire? ma com'è possibile che ci siano in un'area paesaggistica come quella di Tivoli due opere talmente sardinari come Villa Adriana e come Villa d'Este ed è e si è costruito una un'urbanistina che è pazzesca ma qual è e perché poi noi andiamo in questi luoghi e continuiamo ad ammirare questi luoghi qual è non so come dire cos'è che riceviamo e conserviamo della qualità di quei luoghi che ci fanno sembrare sempre migliori ma che poi realmente poi dimentichiamo ecco la restituzione quelle opere che contengono ancora quel nucleo quel seme di fascinazione e di storia e di valore perché tra l'altro Villa Adriana ha un'immunitazione totalmente diversa da Villa d'Este ma tutte e due hanno come dire delle potenze che sono nelle immagini simboliche che ti mettono in gioco che sono stati ordinari ma cos'è che possono cos'è che noi dovremmo restituire a questo patrimonio che abbiamo dimenticato in maniera totale e allora qui riprendiamo anche noi questo tema dell'IMES cioè questo muro che poi è un aquedotto che adesso lo vedete e non vorrei neanche spendere più di tante parole li vedete questo è un modello dove vedete la relazione tra Villa Adriana Villa d'Este e Tivoli con tutto il parco della Niene che è all'interno di questa area di progetto questo è un modello di studio delle rogge che sono state costruite dalla Niene per dare forza motrice al come si chiama ai le cartiere prego alle cartiere sul lato orientale di Villa sì sì solo che questo è il cartiere hanno lavorato per un certo periodo dopo finito il periodo in cui l'industrializzazione ha annullato l'acqua sono diventati dei relitti che adesso vorrebbero l'amministrazione trasformare in alberghi questo è lo studio è la raffigurazione del versante ovest di Tivoli così com'è e adesso vedete ecco adesso qui vedete il progetto di Tivoli il progetto di Tivoli si mette in relazione c'è Villa Villa d'Este che va subito in relazione con un muro orizzontale che si pone a come dire a sostegno e a difesa di tutto quel sistema di di cartiere che adesso sono per i liti che vorrebbero demolire e ricostruire come di edificio ma è anche il punto di resistenza di questo di questa dissoluzione urbanistica lì si imposta il muro del ballo di Adriano che è un muro imponente va bene e che riparte dai disegni del Piranesi perché lì si imposta sull'inizio del di Villa Mecenanche o anche di Ercole vincitore poi ci sono questi disegni di Piranesi che sono straordinari e che rientrano tutti nella presentazione di questo lavoro ma soprattutto il labbro vedete le parti più bianche sono dei grandi terrazzamenti che rendono il tema del parterre di Villa Leste e si espandono e diventa tutto un grande parterre per Tivoli cioè c'è una nuova configurazione che va a lavorare sulla parte più degradata e più delicata di Tivoli per darne una rappresentazione rispetto a quello che è Villa Tivoli ma anche Villa Adriano vi vedete gli elementi isolati dal contesto qui vedete ancora gli elementi isolati dal contesto qui vedete tutte le sezioni sono state fatte per collegare con una nuova strada Villa Adriana a Tivoli avanti avanti questo è passato dopo lo studio di Villa Adriana Villa Leste ecco di questa immagine che vai avrei capito è che tutto quel paesaggio se lo guardate bene le ombre sembrano un'ala una grande ala voglio dire delle volte la costruzione dei modelli che non è finita non riesci a capire esattamente quali sono le potenzialità di quel luogo ma quell'ala che vola quell'ala che potrebbe volare è qualche cosa che ha a che fare con i sentimenti di Adriano quando costruisce questo grande opera in onore dell'amante ma è anche qualche cosa che ha a che fare con Villa Leste che è un'immagine che prana quasi dal cielo e si inserde lì e rimane però lì mentre in questo caso lei si espande e raccoglie tutto l'abitato di Tivoli e poi Tivoli e Daniene perché Daniene è un soggetto molto importante avanti beh questo è il retro beh insomma qui è utile descrivere per un'importante vedere vai vai sezioni a non finire vai questa è una delle immagini fondamentali che abbiamo analizzato più di una volta avanti ed ecco questo è un passo rilievo in gesso che contiene il progetto ma che è fatto sul punto di vista di Piranesi perché il grande tema che qui emerge è non solo il muro ma c'è il tema della cascata perché nel muro che è anche un percorso viario a livello superiore raccoglie tutte le rogge dell'Agniene che non accogliate e si forma una cascata che va direttamente nell'Agniene e che non fa altro che prolungare e enfatizzare l'asse di Villa d'Este che si disperde nell'infinito del paesaggio e della sua visione avanti sempre un passo di rilievo avanti qui qualcuno ha voluto mettere questa immagine non volevo che fosse perché questa è la matrice che abbiamo usato per fare il gesso ma ogni tanto chi schiaffano dentro beh questo è come si chiama questa la chiesetta questa è la chiesetta che è il punto di vista iniziale e finale del progetto cioè da lì noi abbiamo iniziato a studiare il progetto stando su quel posto che è sul fianco del posto delle cartiere di Tiboli ed è anche l'ultimo passo di rilievo che abbiamo fatto proprio in funzione per celebrare come finale come punto finale del punto iniziale dal quale abbiamo iniziato l'osservazione ma il grande tema è quello della restituzione grazie 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 a Renato Rissi se il pubblico vuole intervenire chiedere chiaramente ma volevo dire chi è che finanza tutte queste ore cioè abbiamo la certezza che c'è un finanziamento certo per questo non la me usa il progetto c'è però dico ma magari ci fosse un committente è che io sono il committente anzi non è che io sono il committente di me stesso l'architettura è il committente nei miei confronti ma l'architettura non paga le fatture questo è possibile però tutto questo lavoro è possibile gran parte non tutto proprio perché uno insegna all'università ci sono diciamo voi di che lui gli artisti hanno fatto vedere con molti iniziali però ce ne sono altre inoltre adesso che è un iscritto come tutto è chiaro che questo è siccome lì c'è una periferia cosciente esatto l'intero versante che escono da te è meraviglioso perché è bellissimo le cartiere sono bellissime il ministro di decreto in ma con dei rogetti coscieni uno ce n'è il vecchio famoso è chiesto di un cito per un parcheggio là dentro che è una cosa corretta corribile e ovviamente è ovvio che nessuno ha i soldi per interprirla però è pure vero che bisogna riflettere su questo quello è da un nuovo è un nuovo strepito quindi l'acqua è un elemento fondamentalissimo che si trova il collo è attraversato l'acqua che c'è da tutte le parti ci sono certi delle cascate di tanti di tipo che sono straordinarie che abbiamo messo un posto meraviglioso la visita non per lo solito non per quella agricoriana c'è un contesto meraviglioso è stupendo di un paese che si chiama Rigoli che è diventato in tutte le rigole ma è il nome di un posto delizioso perché ci stanno dicono che è Copenagra e che teniamo come una bondezza poi scende in fondo Pesaniere è preparato da un è un mauscolato di Palsi e Zomonte che è una cosa che sta nelle nostre salve là sopra ci sono 32 quarti con il ponte che è composta un corpus della c'è il tetto di che ce l'ha lì da dietro rappresentato lo teniamo come una fogna una fogna è poco chiede ma il progetto è chiaro che oggi non è nessuna risoluzione per questo è però riflettici faccio di attenzione non è caro quindi è uno di architettura è uno di presa di conoscenza di ma certo trovate una cosa che mi sono dimenticato volevo solo dire che mi sono dimenticato di dire che le cattie resistenti non vengono demolite vengono recuperate perché ci sono questi nuovi parterre che possono trasformare in opere che sono straordinarie mentre se venissero recuperate così come sono senza l'intervento dei parterre è un drama veramente un drama detto questo lì c'è questo piano è un piano di rappresentazione molto importante che però accoglie tutte quelle parti degradate che dovrebbero essere soggette a un recupero radicale detto questo grazie grazie a tutti grazie a Renato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti